Ora, la storica che illumina dentro il bosco, è proprio fatta apposta a vero. Vettore Fibilla, oh! Carino! Bello, bello, bello! Minchia, non finiva mai, non finiva! Mamma mia! Oh, surplus! E via! Ma che c'era? Un bivio? C'era un bivio? No! C'è un bivio va? C'è un bivio? Qualcosa lì? C'è un bivio, un incrocio! C'è un incrocio lì? No, non finiva! Oh, merda! e stai riprendendo con la telecamera esatto e io vado a piedi e io pure senza cadere da sto lato va bene dall'altro non tanto attenzione qui tranquillo dai vai beh diciamo che noi siamo un pochettino più alti ristoro a 100 metri vai per fortuna ma che questa è discesa pericolosa per chi ma noi ci spaventiamo per così poco dobbiamo affrontare discesa pericolosa eh sì sì eh ma la M io non c'ho la traccia io c'ho la traccia della L L L come la facciamo dai che ormai è persa la giornata L siamo arrivati qua vai 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 io pure io perché invece no ah così facciamo questi cambi era quasi meglio di là discesa pericolosa dov'era ma quanto è bella l'uva pocarina oh quanto è bella saperla vendegnare a far l'amor con la a far l'amore in mezzo al prato si può andare in tutte e due le direzioni perché si ricongiunge qua sotto ma a noi ci piace di più a sinistra? a me sì siamo con gli istinti ah che bello che bello qui cambio di direzione che bello che bello che bello che bello e 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 ah carina questa oh ma Katia sta andando, non vuole essa grande Katia ah 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 lippi ah 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 ma ah 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 cicloturistica mamma mia ma andato, ma stai succedendo? come potete andare? ah, c***o.. oh, 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 oh ho già fatto a chi era l'andare, ma tu non c'è scritto se è il cartello, però non l'ho visto niente merda andate, vediamo un attimo una catena non mi ricapiamo questo un piccolo caos siamo fermati che Emiliano è uscita la catena no ma non serve, l'ho fatto si si facciamo questa salita sperando sia l'ultima 碧 rilassato no ma non è sto se Oh Katia ma secondo te quelle curvettine sopra non erano un po' dispettose per me per come sono io? Oh le so fatte tutte me? Quando ti ricapita sai che devi farci, devi farci saputa, facci le mosse, ci devi atteggiare. Grazie per la visione!